Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Pianciolato59 E oggi, come potete vedere, siamo su Clash Royale E secondo voi, perché sono su Clash Royale? Gioco che l'ho portato una volta sul canale, poi mai più Perché non ci ho mai più giocato, ci ha giocato mio fratello e basta Diciamo che ho iniziato a giocarci per colpa di mio fratello Grazie a lui sono arrivato in Arena 8, che se non ci sono mai arrivato Quindi oggi, cosa andremo a fare, dato che, cioè, deve avere un po' i soldi per poter portare Clash Royale su YouTube Italia, no? Noi andremo a spacchettare innanzitutto il baulo omaggio Che ci ho trovato una leggendaria, perciò non si sa mai Di cui ho, voi non sapete assolutamente niente Rimaste quando io ero in Arena 2 Ho trovato esattamente tre leggendari Ovvero Mastino, Stregone di Ghiaccio e la Principessa Di cui, lo Stregone di Ghiaccio, l'ho trovato nel baulo omaggio Quindi, questo gameplay a cosa serve? Cioè, perché stai portando questo contenuto su YouTube Italia Che è già nelle tendenze ci sta Clash Royale Noi oggi andremo a spacchettare un fantastico pacchetto magico di gemme Che sono 5 euro, e sono già troppo Prima di iniziare con il mio, cioè, ma cosa ci sarà oltre il tuo gameplay? Semplice! Ciao! Allora Siamo con mio fratello Sono bello Allora No, fa cacca Tanto oro Speriamo che venga registrata questa cosa Spera 8 arcieri 7 mini pecca Non me ne faccio un cazzo 33 gobini Non me ne faccio un cazzo Ma Stregone di Ghiaccio Le epiche Oh! Non le trova mai leggendarie lui Sì! Abbiamo reagito già meglio di tutta YouTube Italia Con un solo Sid da parte sua Ora andremo a spacchettare il mio No, aspetta Che cosa? Che è successo? Sul cesso Ce le devo registrare per forza da telefono! Esatto! Ma ce ne ha una paga Sbossa, spilla, compra e investe Pagamento riuscito Troppo poco oro Iniziamo bene 38 spiriti del cazzo Set qua c'è la leggendaria Francesco Non c'è la leggendaria Francesco Porche puttana! Non c'è la leggendaria Forse Ma fa' il culo! Zitto? No no! Ne sono tutte le due di epiche! Vaffanculo Perché me ne date quattro di epiche adesso? Ah! Guarda come se ne vanno Guarda come non mi trova niente e mi fa spregare gemme Poco oro Pochi sgherri Troppo poco oro Pochi mortai Pochi spiriti No! Se creare tutto adesso? Vaffanculo! Vaffanculo! Poco oro Poco oro Poco oro goed